I primi giorni mi trattarono con una dolcezza che mi riusciva terribile. I sguardi di un carceriere, si voglia o no, puzzano sempre di cadavere. Per fortuna, però, dopo solo poco tempo, l'abitudine ripresa il sopravvento e mi confusero con gli altri prigionieri in una comune brutalità, senza più usarmi quelle insolite e così diverse cortesie che continuamente rimettevano il boia davanti ai miei occhi. Né questo, del resto, fu il solo miglioramento. La mia giovinezza, la mia docilità, le cure del cappellano della prigione e soprattutto qualche parola in latino, rivolta al carceriere senza che quello ne abbia mai capito niente, mi aprirono ben presto la passeggiata con gli altri detenuti, una volta alla settimana, e fecero sparire la camicia in cui ero immobilizzato. Infine, dopo molte esitazioni, mi diedero persino della carta da scrivere, l'inchiostro e una penna e una lucerna. E ancora, tutte le domeniche dopo la messa, mi si lascia nel cortile durante la ricreazione, dove, per forza, discorro con i detenuti. Sono buona gente, poveretti. Mi raccontano le loro carovane cose da far rabbrividire se non sapessi che si vantano, e mi insegnano a parlare in gergo, a batter l'incudine, come dicono. È tutta una lingua fiorita sulla lingua normale, come una specie di nauseante screscenza, come un bubone. Qualche volta, però, c'è in essa anche un'energia singolare, anche di orribilmente pittoresco. C'è del vino sul solco, del sangue sul cammino, e si dicono. Oppure sposare la vedova, essere impiccato, come se la corda della forca fosse vedova di tutti gli impiccati. La testa di un ladro, poi, ha due nomi. La sorbona, quando medita, studia ed elabora il colpo. Il ceppo, quando il boia la taglia. Altre volte si tratta di spirito di farsa. Un fazzoletto di vimini è il paniere del cenciaiuolo. La bugiarda è la lingua, ma soprattutto sempre, in ogni momento, sono parole bizzarre, misteriose e sordide e laide. Nate chissà dove. Il taule, il boia. La cone, la morte. Il cartello, la piazza delle esecuzioni. Un linguaggio da rospi, che ti avvolge come una ragnatela. Quando si sente parlare questa lingua, si ha l'impressione di qualcosa di sporco e di lurido. Di un mucchio di stracci che si vorrebbe togliere di mezzo al più presto possibile. Ma almeno questi uomini mi compiangono. Sono i soli. I carcerieri, i secondini, i guardiani discorrono e ridono. E parlano di me, davanti a me, come di una cosa. Mi son detto, dal momento che ho la possibilità di scrivere, perché non farlo? Già. Ma che scrivere poi? Chiuso tra quattro mura di pietra, nude e fredde. Senza libertà di movimento. Senza orizzonte per i miei occhi. Tutto il giorno occupato per un'unica distrazione. A seguire macchinalmente il lentissimo corso del riquadro biancastro che lo spioncino della porta disegna sul viscido muro di fronte. Sempre solo con un'unica idea. Con l'idea del delitto e della pena, dell'assassinio e della morte. Potrei forse avere qualcosa da dire. Io, che non ho più niente da fare in questo mondo. E che troverai in questo cervello inaridito e vuoto, che valga la pena di essere scritto. E perché no, poi? Se tutto intorno a me è monotono e senza colore. Non ho forse dentro una tempesta, una lotta, una tragedia. Questa idea fissa che mi possiede non mi si presenta forse ad ogni ora, in ogni istante, sotto un nuovo aspetto. Sempre più odiosa e spietata, a mano a mano che si avvicina il mio ultimo istante. Perché mai tenterò di dire a me stesso tutto ciò che io provo di violento e di strano nella disperata situazione in cui sono? Certo, la materia è abbondante. E per breve che sia ormai la mia vita, ci sarà bene con le angosce, i terrori e le torture che ancora la devono certo riempire, di che usare questa penna e svuotare questo calamaio. Del resto, il solo mezzo per soffrire meno è proprio osservare le proprie angusce. E il dipingerle dunque, in qualche modo, mi distrarrà. E poi quello che scriverò potrebbe anche non essere utile, forse. Questo diario delle mie sofferenze, redato ora per ora, minuto per minuto, supplizio per supplizio, se avrò la forza di condurlo fino al momento in cui mi sarà fisicamente impossibile continuare. Questa storia, necessariamente interrotta, ma il più possibilmente completa delle mie sensazioni, non potrà forse contenere un grande e profondo insegnamento. Non ci sarà dunque, in questo processo verbale di un pensiero in agonia, in questa progressione sempre crescente di dolori, in questa specie di autopsia intellettuale di un condannato a morte, più di una lezione, per coloro che tranquillamente condannano. Forse questa lettura renderà loro la mano meno facile quando si tratterà di gettare qualche altra volta una testa che pensa, la testa di un uomo, su quella che loro chiamano la bilancia della giustizia. Possibile che non abbiano mai pensato, i disgraziati, alla lenta successione di torture che nasconde la formula spiccia di una condanna a morte. Non si siano mai fermati a riflettere, anche solo per un istante, intorno all'idea acutamente dolorosa che nella testa che loro tagliano c'è un'intelligenza, un'intelligenza che aveva contato sulla vita, un'anima, un'anima che non si è affatto preparata a morire. No, loro non vedono in tutto questo che l'accaduta a piombo di un coltello a mezzaluna, e pensano di certo che il condannato non ha niente davanti a sé, niente dietro di sé. Questi fogli li disinganneranno. Pubblicati forse un giorno, fermeranno infine la loro attenzione per qualche istante sulle sofferenze dello spirito. Poiché, infatti, sono queste che loro non sospettano né immaginano affatto. Loro godono, trionfanti, di poter uccidere senza quasi far male, come se proprio di questo si trattasse. Cos'è mai, infatti, il dolore fisico paragonato a quello morale? L'orrore e la pietà delle leggi fatte in un simile modo. Ma verrà il giorno in cui, e forse queste memorie, ultime confidenti di un miserabile, vi avranno contribuito. A meno che, dopo la mia morte, il vento non giochi nel cortile con questi pezzi di carta imbrattati di fango, o che essi abbiano a marcire sotto la pioggia, incollati sui vetri rotti di qualche finestra di un carceriere. Che quello che qui scrivo possa un giorno essere utile ad altri, o possa fermare il giudice sul punto di giudicare o salvare dei disgraziati, innocenti o colpevoli, dall'agonia alla quale io sono condannato, in fondo, che mi interessa. Quando la mia testa sarà stata tagliata, che mi importa, Sofia, che non se ne taglino altre. Posso io dunque aver pensato davvero a simili follie? Abbattere il patibolo dopo esservi salito, ma il guadagno lo riceverei. Ah, il sole, la primavera, i prati pieni di fiori, gli uccelli che si svegliano al mattino, le nuvole, gli alberi, la natura, la libertà, la vita. Tutto questo non è più per me. Ah, sono io che mi devo salvare. Sono io. È mai possibile che ciò non si possa, che io debba morire domani, oggi stesso magari, che le cose stiano proprio ineluttabilmente così. Mio Dio, che terribile idea da spaccarsi la testa contro il muro della prigione. Vediamo dunque cosa mi resta. Tre giorni di dilazione dopo la condanna per il ricorso in Cassazione. Otto giorni d'oblio negli uffici della Corte d'Assise, dopodiché le pratiche, come essi dicono, sono inviate al Ministro. quindici giorni di attesa presso il Ministro, che non sa nemmeno che esistono, ma che tuttavia si suppone le trasmetta dopo attento esame alla Corte di Cassazione. Là, classificazione, numerazione, registrazione, poiché la ghigliottina è affollata, si sa, ed ognuno deve passare quando è il suo turno. quindici giorni per vigilare che non abbia un trattamento di privilegio. Infine la Corte si riunisce, in genere al giovedì, rigetta venti ricorsi in massa e rinvia il tutto al Ministro. Questi la rinvia al Procuratore Generale, il Procuratore Generale al Boia. Tre giorni. La mattina del quarto il sostituto del Procuratore Generale si dice, mettendosi la cravatta, bisogna pure che questo affare finisca. Allora, se il vice cancelliere non ha qualche pranzo da amici che lo tenga impegnato, l'ordine di esecuzione è abbozzato, redatto, messo in bella copia e spedito, e l'indomani mattina all'alba nella Place des Greves si sente martellare un carpentiere e agli incroci urlare a piena voce i banditori arrocchiti. In tutto sei settimane. La ragazza aveva ragione. Ora, ecco, sono almeno cinque settimane, forse sei, non ho il coraggio di contare, che mi trovo in questo orribile posto e mi sembra che tre giorni fa fosse giovedì. Devo fare testamento. Ma che pro! Io sono condannato alle spese e tutto quello che possiedo basterà appena appena. La ghigliottina è infatti molto cara a quel che sembra. Lascio dunque una madre, una moglie, una figlia, una bimbetta di tre anni, dolce, rosa e delicata, con due grandi occhi neri e dei lunghi capelli castani. Quando la vidi l'ultima volta aveva due anni e un mese. E così, dopo la mia morte, tre donne senza figlio, senza marito, senza padre, tre orfane di specie diversa, tre vedove per colpa della legge, ammetto benissimo che io sia stato giustamente punito, ma questi innocenti che hanno mai fatto? Perché mai vengono disonorate e mandate tranquillamente in rovina? Perché vuole così la giustizia? Del resto non è per la mia povera vecchia mamma che mi preoccupo. Ha settantaquattro anni e certo morirà di crepacuore. O se riuscirà ancora a vivere un po', purché abbia fino alla fine un po' di cenere calda dentro il suo scaldino, non dirà mai niente. Ne più mi preoccupa mia moglie, che malaticcia e debole come è sempre stata, sicuramente anche lei morrà, a meno che non impazzisca. Si dice che questo faccia vivere, ma l'intelligenza almeno non soffre. Dorme. E in fin dei conti è come se fosse morta. La mia figlia, la mia bimba, la mia povera piccola Maria, che a quest'ora ride, gioca e canta e non pensa a niente. È lei, è lei che mi fa male. Ecco dunque qui la mia cella, otto piedi quadrati, quattro muri di pietra viva che si appoggiano ad angolo retto su un pavimento sopraelevato di un gradino rispetto al corridoio esterno. A destra della porta entrando, una specie di nicchia che forma una parodia di alcova. Ci si butta una bracciata di paglia e si pensa che il prigioniero possa dormirvi e riposare. Vestito com'è, estate e inverno, di un paio di calzoni di tela e di una casacca di trelizzo. Sopra la testa, al posto del cielo, una nera volta ogiva, è così che si chiama, da cui le ragnatele pendono come se fossero stracci. Per il resto né finestra né spiragli, solo una porta tutta coperta di ferro, al centro della quale c'è una piccolissima apertura, difesa da una inferriata che il carceriere di notte può chiudere. Di fuori un corridoio piuttosto lungo, rischiarato e aereato da strette feritoie ricavate nell'alto del muro, è diviso come tanti scompartimenti comunicanti tra loro per mezzo di bassissime porte. Ognuno di questi scompartimenti serve, per così dire, da anticamera a una cella come la mia. È in queste celle che si mettono i forzati condannati alla segregazione per indisciplina, ma le tre prime sono riservate ai condannati a morte, poiché essendo più vicine al corpo di guardia sono più comode per i secondini. Queste celle sono tutto quello che resta dell'antico castello di Bicetra, costruito nel quindicesimo secolo dal cardinale di Winchester, lo stesso che fece bruciare Giovanna d'Arco. Così almeno ho sentito dire da alcuni curiosi che sono venuti a vedermi l'altro giorno nella mia tana e che mi guardavano da lontano come una bestia da serraglio. Il secondino ci ha guadagnato cento soldi, ma dimenticavo di dire poi che alla porta c'è una sentinella notte e giorno e che i miei occhi non possono alzarsi verso lo spioncino senza incontrare i suoi sempre fissi sbarrati su di me. E l'aria e la luce del giorno si possono appena immaginare in questa botte di pietra. Poiché il giorno ancora non appare, che fare della notte? Mi è venuta un'idea. Mi sono alzato e ho portato in giro la mia lampada su quattro muri della cella. Sono tutti coperti di frasi, di disegni, di figure bizzarre, di nomi che si accavallano l'uno sull'altro, a carbone e a matita col gesso, lettere nere, bianche e grigie, spesso profonde incisioni nel sasso, e qua e là a volte dei caratteri rossastri che si direbbero scritti col sangue. Certo, se non avessi ben altro cui pensare, sarebbe interessante davvero questo strano libro che si sfoglia ai miei occhi, pagina per pagina, su ogni pietra della prigione. Mi piacerebbe ricomporre in un tutto questi frammenti di pensiero sparsi sulla muraglia e ritrovare un uomo sotto ogni nome e ridonare un senso e vita a queste iscrizioni mutilate e smembrate, a queste parole troncate, corpi senza testa, come quelli che le hanno scritte. Sopra il mio letto ci sono due cuori fiammeggianti, trapassati da una freccia e sotto amore per tutta la vita. Intisgraziato per la verità non prendeva un impegno troppo lungo. Di fianco una specie di cappello a tre punte con una piccola figura disegnata sotto grossolanamente e le parole «Viva l'imperatore!» Ancora due cuori fiammeggianti e questa iscrizione strana in una prigione. Io amo e adoro Mathieu Duvin, Jacques. Sul muro di fronte si legge questo nome «Papavoil» e il P maiuscolo è tutto arabescato e abbellito con cura il ritornello di una canzone oscena. Il cappello frigio inciso profondamente nella pietra e queste parole sotto «Bourier la Repubblica era uno dei quattro sottofficiali della Rochelle povero giovane quanto sono odiose le cosiddette necessità politiche per una idea per un sogno per un'astrazione questa orribile realtà che si chiama ghigliottina e io che mi lamento io miserabile che ho commesso un vero delitto che ho versato del sangue ma non continuerò nella mia ricerca ecco che ho visto disegnato in bianco nell'angolo di un muro un'immagine spaventosa la figura del palco che a quest'ora può darsi sirizi proprio per me per poco la lampada non mi è caduta di mano